Siamo nella penultima tappa del tennis surrello Abruzzo, 25 mila dollari femminile. Diciamo che è la tappa più importante in termini di monte premi, ma anche di presenza di giocatrice. Abbiamo la di Sarra Federica che viene da una finale fatta in Germania domenica scorsa, un 60 mila dollari. Best ranking vicinissimo alla 200esima posizione al mondo. Si va concludendo questa settimana del torneo femminile con la finale di doppio sabato pomeriggio alle 18. Identico orario ma la domenica per la finale di singolare. Siamo partiti il 13 maggio con 9 Open nazionali fit, 4 tornei internazionali ETF, quindi ben 13 tappe. Dal 15 al 22 ci sarà la maschile che simbolicamente col match point della finale maschile andrà a concludere questi tre mesi e mezzo di tornei in Abruzzo. È l'unica regione che in un momento anche complicato come questo con il Covid ha scelto questo circuito itinerante su buona parte delle città, delle province tutte interessate e quindi veramente un bel progetto, uno spettacolo per il tennis e per lo sport abruzzese. Grazie. 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 Grazie.